Per Elisabetta si compì il tempo del parto e dì della luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre Zaccaria ma sua madre intervenne no si chiamerà Giovanni le dissero non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati all'istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo che sarà mai questo bambino e davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Nomen est omen dicevano gli antichi cioè il nome che porti è anche un augurio o meglio un presagio. Nel tuo nome infatti è indicato il tuo destino. Oggi festeggiamo la natività di Giovanni Battista, l'unica natività che si festeggia nel calendario liturgico insieme a quella di Gesù. Sapete che noi cristiani festeggiamo la nascita al cielo dei santi cioè il giorno della morte ma per Giovanni Battista Gesù facciamo un'eccezione. Ora quando nasce un bimbo certamente la prima preoccupazione dei genitori è quella di dargli un nome. Che nome diamo al nostro bambino? Questa non è stata certamente la preoccupazione di Zaccaria ed Elisabetta dato che il nome di Giovanni era già stato annunciato dall'angelo come del resto anche per quello di Gesù. Ecco il detto antico Nomen est omen in questo caso ha un sigillo ufficiale quello dell'angelo dal cielo. Cosa significa Giovanni? Il nome potrebbe derivare dall'ebraico Dio ha avuto misericordia. Questo certamente nei confronti di Zaccaria ed Elisabetta ormai anziani senza figli ma soprattutto nei confronti del popolo di Israele. Ed è certamente qui il destino di Giovanni il Battista essere l'ultimo dei profeti dell'antico testamento quello che ha annunciato la misericordia di Dio svelata nel figlio Gesù. La nascita di Giovanni trova il suo senso infatti nella nascita di Gesù le uniche due nascite appunto contemplate nel calendario liturgico e se ci fate caso si festeggiano entrambe nei due solstizi estate ed inverno. Ma per quell'estivo il sole al massimo della luce d'ora in poi tenderà a diminuire mentre il solstizio d'inverno al minimo della luce tenderà poi ad aumentare. Lo stesso rapporto che c'è tra Giovanni e Gesù. Giovanni deve diminuire, Gesù deve crescere. Grazie.